A vedere, buongiorno, benvenuti alla sedia stampa del 1 maggio 2019 per carità, abbiamo rubato un po' di tempo, che cosa sta succedendo? La questione fondamentale è di politica estera, ovviamente riguarda il Venezuela, orlo sull'orlo della guerra civile e lì si capisce tutto come la pensano i giornali e cioè quando parlano di rischio guerra civile sono giornali che pensano che quella di Maduro sia una dittatura, quando invece si parla di golpe o tentato golpe da parte di Guaidò, beh allora state certi che lì si parla di quei fenomeni che ancora adorano Maduro, adorano Chavez, adorano quella specie di follia comunista sudamericana che ha un filo rosso, rosso vero, che parte dalla Cuba castrista e arriva alla Venezuela di Chavez e di Maduro, un Venezuela per cui si muore di fame, per cui ci sono stati dei colpi di Stato fatti da Maduro, eppure oggi tutti interrogarsi se la liberazione di un dissidente politico agli arresti domiciliari fatto ieri da Guaidò e con la sua presa di posizione di ieri sera questo fosse un golpe, non è un golpe, i golpi non sono questi, ovviamente a un dittatore, come ci si ribella un dittatore, quando ha evitato tante volte democraticamente di far sì che potesse perdere il potere, comunque oggi il pezzo più divertente e più interessante e secondo me non è più bello, però insomma un bel pezzo oggi lo dobbiamo a Federico Rampini che dice i blindati socialisti contro gli indifesi, perché questa è l'immagine più forte di ieri, ci fanno ritornare alla Budapest del 1956, a Praga del 1968, a Tiananmen del 1989, insomma si rischia in Venezuela un orrido remake, i blindati socialisti, chiaro il concetto, i blindati sono socialisti contro gli indifesi, a ragione Rampini, punto e basta. L'Italia fuori dalla recessione, ieri i dati dell'Istat che vi avevamo annunciato sarebbero stati attesi, sono stati superiori alle attese degli economisti, intanto sono dello 0,2% quindi sono positivi e in più sono più positivi di quanto ci si attendesse, è risolta la crisi italiana? No, neanche per sogno, si tratta di una crescita che è ancora inferiore rispetto al resto dell'Europa, della metà del resto dell'Europa, come fa notare oggi Chiarelli sulla stampa, in realtà la disoccupazione che ieri è diminuita è comunque del 10,3% superiore di 3 o 4 punti alla media europea, quindi non è che è cambiato molto, però ragazzi non possiamo qua attaccare questo governo anche sul fatto che la crescita è inferiore a quella dell'Europa. Oggi quando mi leggo la chiacchierata di Monti con il foglio mi vengono i brividi perché Monti ancora fa il fenomeno, ancora ci spiega dove dobbiamo andare, Monti è un pallone gonfiato che non ha mai lavorato un giorno nella sua vita, nella vita reale, è uno che non è in grado da solo di comprarsi un paio d'occhiali probabilmente, non ha l'idea più pallida di come lavorano le persone, di come lavorano le imprese, è una specie di torre d'avorio che spiega a degli incompetenti come sono questi grillini, non c'è dubbio, che cosa debbono fare, ma con l'arroganza che almeno questi spero non abbiano, almeno spero, detto questo staremo a vedere. Anche il sole è scettico su questa ripresa perché dice che ci sono più occupati e l'altra questione vera è che oggi c'è il pezzo di Fubini, è come se gli italiani non credessero ai propri occhi, no Fubini è come se gli italiani non credessero più al pessimismo dei tuoi pezzi, perché Fubini soltanto pochi giorni fa, poche settimane fa ci aveva spiegato che noi eravamo il grande malato d'Europa, ma che lo siamo sempre stato probabilmente e che noi saremmo stati in recessione praticamente vita natural durante e anch'io per quella cagata del decreto dignità che fa orrore a qualsiasi persona normale, insomma che abbia un'idea di come funziona il lavoro, beh insomma anch'io devo dire che mi sono stupito che i danni fatti dal decreto dignità non siano stati così forti grazie secondo me al fatto innegabile come forse nota Dario Di Vico oggi sul Corriere della Sera che l'impresa, gli imprenditori, gli attigiani, i lavoratori italiani in realtà nonostante la politica riescono a campare. Beh guardate oggi il libro degli orrori per mia colpa l'ho letto nel pezzo di Marco Travaglio che mi ha spiegato sempre che siano vere le cose che lui scrive, non sempre mi fido di Travaglio, il programma elettorale del Partito Socialista che ha vinto in Spagna, patrimoniale dell'1% sulle rendite, l'aumento dell'IRPEF locale, l'applicazione della Tobin Tax che è una tassa assurda alle transazioni finanziarie delle imprese, la tassa digitale, insomma una gragnuola di tasse, salario minimo, tutte queste robe qua, una serie di tasse che ha posto il Partito Socialista Europeo che secondo me, devo dirvi la verità, saranno uno dei motivi per i quali la Spagna, vedrete, inizierà a crescere molto meno di quanto sta crescendo oggi. Il Consiglio dei Ministri di ieri non si è discusso di Siria, hanno fatto le nomine, il tempo dice che è stata nominata prefetta di Roma una donna che è in visa alla Raggi e soprattutto nota Becchi sul tempo di oggi un po' lo stesso identico sistema Gabrielli Marino, cioè il prefetto a Roma nominato dal leghista che potrebbe rompere le scatole alla sindaca. In realtà poi oggi un retroscena lo fa la verità sul Consiglio dei Ministri di ieri e cioè che Conte avrebbe visto le carte le cosiddette intercettazioni di Siri e sulla base di queste oggi si sarebbe, ieri si sarebbe arrivati all'idea di non dimissionarsi. Berlusconi è stato operato per occlusione intestinale, questo può succedere, ma la cosa che mi ha un po' fatto impressione è Libero, in cui dice più in ospedale che a casa, cioè una specie di compiaciuta titolo sul fatto che Berlusconi sta più in ospedale che a casa. Non lo so, io nei confronti di qualcuno che sta male forse e che vorrebbe fare politica, questa specie di guasconata me la sarei tenuta per me nei confronti di chiunque. Molto più interessante se volete il pezzo di Goffredo De Marchis sulla Repubblica che dice che mentre Berlusconi sta a casa i signori delle tessere stanno facendo degli strani giochi all'interno di un partito che per la verità è anni luce rispetto a quella Forza Italia degli anni diciamo 94-2000. Primo meaggio bellissimo, forte, oggi la festa dei fannulloni perché ormai il punto fondamentale è cercare di trovare un sussidio per non lavorare, mentre invece Landini a tutta pagina in apertura della Repubblica ci spiega il segretario della Cigelle, il comunista tosto della Cigelle e altro che Camusso che la sua idea è di avere un sindacato unico. Lo capisco, bisognerebbe parlarne con Cisle e Will se sono così d'accordo di fare un sindacato unico in questo momento. Bello, bellissimo il pezzo di Maurizio Crippa oggi sul foglio perché ci racconta che cosa sta succedendo nei beni pubblici italiani e qual è la differenza tra pubblico e privato. La differenza sul fatto che il cenacolo è chiuso oggi, primo maggio, che è chiuso la Pinatocoteca di Breda, che è chiuso il Maxi, che chi se ne frega, che è chiusa l'Arapaiacis, che sono chiusi i musei capitolini, cioè in realtà sindacati, mancanza di straordinari, minore autonomia, fa sì che questi musei gestiti dal pubblico, a differenza dei musei gestiti dal privato e anche altri musei che sono gestiti dal pubblico in maniera evidentemente un po' più coerente, questi musei proprio il primo maggio chiudono. Secondo voi, noi quando andiamo a vedere i musei? Secondo voi, quando è che c'è la possibilità per le persone che lavorano normalmente di poter andare ai musei? Questa domanda non retorica Crippa se la fa alla grande oggi sul foglio con un solo caveat. Crippa non si rende conto che questo paese da dieci giorni è bloccato, perché questo paese da dieci giorni, lo vedo sul numero di mail che io ricevo, in realtà tra ponti, pontarelli, allungamenti, primo maggio 25 aprile eccetera, non si fa nulla. Oggi per ricevere una mail in questi, e domani che è venerdì, domani anzi c'è ponte o non ponte rispetto al primo maggio il 25 aprile, questo è il paese dei ponti, non quelli che crollano, anche quelli, ma soprattutto quelli che si creano. Ultima cosa, intervista a Orban realizzata dalla stampa, dice Salvini è un eroe alla faccia dell'isolamento internazionale della nostra Italia, certo forse preferisci essere vicino a Francia, Germania e Inghilterra che all'Ungheria per quello che conta, ma comunque perché sarebbe un eroe secondo Orban? Perché avrebbe bloccato l'arrivo degli immigrati attraverso il mare, cosa che lui ha fatto attraverso la terra e dice poi che ci vorrebbe una grande alleanza europea tra popolari e le destre. Direi che per oggi è tutto, vi do domani la zuppa non c'è perché domani i giornali non escono, ma sicuramente con il mio sito nicolaporro.it perché il commento del primo maggio e del concertone del primo maggio pagato con 800 mila euro della Rai, cosa che oggi scopre a tutta pagina libero ma che ieri abbiamo letto su Italia Oggi, insomma quella roba lì certamente non ve la lasciamo non commentata. Un abbraccio a tutti quanti voi e agli amici di Instagram che mi vedono in diretta e agli amici di Facebook che altrettanto in questo momento mi stanno vedendo in diretta. Ciao!